Questa iniziativa nasce da un'idea del gruppo Giovani Imprenditori di Avellino e si pone come obiettivo quello di raccogliere dei fondi da devolvere in beneficenza. Noi pensiamo che la cosa migliore sia quella di valorizzare e promuovere iniziative come queste che abbiano come comune denominatore quei valori filantropici che sono a nostro avviso alla bassa e proprio della crescita e dello sviluppo della nostra società. I Confindustri di Napoli sono sempre pronti a partecipare a queste iniziative. Quando ci ha chiamato il presidente dei giovani di Avellino Massimo Iapicca subito abbiamo risposto con grande entusiasmo perché quando si tratta di fare beneficenza siamo sempre pronti a partecipare soprattutto per quanto riguarda questo torneo che ha sia scopo benefico che anche per un fattore per integrarsi tra i vari territoriali del gruppo Giovani. La seconda esperienza, vedete dietro i manifesti, quest'estate c'è stata la prima attività che abbiamo destinato alla nostra casa di accoglienza per mamme detenute con bambini. Adesso per il Natale vogliamo essere vicini a tutte le tante famiglie che hanno difficoltà a gestire il quotidiano, quindi i generi alimentari. Faremo questi pacchi perché ogni famiglia possa vivere il Natale nel migliore dei modi, nella serenità, nella gioia e soprattutto con una speranza in un futuro.